Oggi, domenica 5 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Amici. Come di consueto, gli allievi si sono scontrati in gare di ballo e di canto. Per giudicarli, sono arrivati Gabri Ponte per il canto e l'ex allieva Ambeta per il canto. Tuttavia, il momento che ha catalizzato maggiormente l'attenzione durante il pomeridiano non riguarda i ragazzi. Bensì due grandi protagoniste del programma. Negli studi di Amici, infatti, è avvenuto un forte scontro tra Elena D'Amario e Alessandra Celentano. Il tutto è iniziato dopo l'esibizione dell'allievo Nicolas, che ha ballato un passo a due proprio con Elena. Come previsto, la performance non è affatto piaciuta alla Celentano, che ha da sempre espresso il suo poco apprezzamento verso il ballerino. Nel criticare l'allievo, la Celentano ha definito la coreografia come fatta solamente di baci e abbracci. Queste parole hanno fatto scattare Elena, creatrice della coreografia. La D'Amario è rientrata in studio e ha preso in mano il microfono per fare un duro discorso contro la maestra. È stato più forte di me. Non sarei voluta entrare. Non voglio litigare. Ma non è conforme alla realtà quello che sta dicendo. Lei ha detto che ha visto baci e abbracci. Ma non è così. Mi spiace che lei abbia un atteggiamento denigratorio e sminuente nei confronti di Nicolas e nel lavoro degli altri. Quello che dice non è la... La ballerina si è poi seduta sulla cattedra dei professori. Scatenando la furia della Celentano che le ha spiegato di non essere ancora sua collega. Quasi. Ha risposto stizzita Elena. Da lì. Poi. La maestra ha esclamato. Sai cosa ti dico? Sei l'avvocato delle cause perse. Asserisci delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Se ti senti ferita perché il passo a due l'hai creato tu mi dispiace. Noi facciamo lavori diversi. Non voglio fare queste cose. Lei deve avere risposto.